Costantino Vitaliano, oggi 50 anni ma impossibile non ricordarlo ai tempi di uomini e donne. È stato lì che il pubblico l'ha conosciuto nelle vesti di tronista, uno dei primi e per questo entrato nella storia. Da quel momento è cominciata la sua carriera. Ha riempito per anni le pagine del gossip così come i locali oltre a prestare il volto per pubblicità di ogni tipo, recitare e presenziare nei salotti televisivi. E come noto ha guadagnato cifre astronomiche. Ne ha parlato dettagliatamente in una recente intervista al Corriere della Sera dove ha svelato tutti i retroscena del mondo dello spettacolo e parlato anche della sua vita attuale. Costantino ha raccontato di aver guadagnato altissime cifre nei tempi d'oro, facendo una lista di tutto ciò che possedeva e del cash che chiedeva per le ospitate. Tanto. Basti dire che per sfizio mi sono comprato di botto una Bentley da 250.000 euro, che avevo 6,7 case. Non riuscirei a quantificare. A un certo punto le richieste erano troppe, l'agenzia per limitare le serate ha alzato il cash al massimo andando oltre i 10.000 euro per un'ora. E invece di diminuire le domande aumentavano. Ho guadagnato io e fatto guadagnare gli altri. Ha avuto anche una proposta da un network americano per condurre un programma sulle spiagge ma ha rifiutato perché avrebbe preso molti meno soldi di quelli che avrebbe guadagnato restando in Italia. Non uscivo dalla logica del guadagno, ha aggiunto, sarebbe stato un balzo internazionale però in Italia incassavo di più. Mi avrebbero dato in un mese quello che da noi prendevo in qualche giorno. Solo con le chat telefoniche in un anno ho fatturato un milione di euro. E proprio grazie a queste chat telefoniche il Costantino Vitaliano è riuscito a guadagnare uno milione di euro. E oggi? Di cosa si occupa? Attualmente l'ex tronista lavora sempre usando la sua immagine ma presenziare a un evento gli fa fruttare molti meno soldi, 2000 euro più le spese per 90 minuti, ma posso scegliere. Mi chiamano anche nei negozi, valuto. L'altro giorno mi contattano per presenziare a un aperitivo a 700 chilometri da Milano, proponendo 500 euro. Replico, scusate, no. Risposta, altri lo fanno. Allora chiedetelo agli altri. Si vede di tutto. Se non mi pagano non vado. Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.